Atti persecutori e stalking verso l'ex compagna denunciato pesarese di 50 anni, vaccini raggiunto il milione di somministrazioni, bene l'adesione dei maturandi, sosta pagamento in baia, scontro tra maggioranza e opposizione, perdite ed eventi sospesi, la crisi e la voglia di ripresa delle proloco provinciali. Martedì 8 giugno, buona serata, benvenuti al nostro telegiornale sul canale 633 del Digitale Terrestre, Rossini News. In apertura parliamo di cronaca e parliamo in modo particolare di un nuovo caso di stalking con minacce e atti persecutori. A denunciare infatti questi atteggiamenti portati avanti da un uomo pesarese di 50 anni è stata l'ex compagna che ha trovato il coraggio e la forza di reagire agli atteggiamenti subiti da diverso tempo. La squadra mobile ha quindi raccolto la denuncia della donna e ha predisposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione dell'uomo nei confronti dell'ex compagna, misure che se non rispettate potrebbero portare anche all'arresto dell'individuo. Gli approfondimenti degli agenti hanno permesso di ricostruire l'attività portata avanti dall'uomo e composta da insulti, minacce gravi, invio di innumerevoli messaggi vocali, pedinamenti e scenate di gelosia, comportamenti che hanno procurato alla donna uno stato di costante terrore per la propria incolumità per quella del figlio e delle persone a lei vicine. L'uomo si era reso protagonista di comportamenti analoghi anche nei confronti di altre due donne. E cambiamo completamente pagina, parliamo degli aggiornamenti riguardanti le vaccinazioni sul nostro territorio. Come comunicato dal governatore Francesco Acquaroli, nella giornata di ieri le marche hanno raggiunto il traguardo di un milione di somministrazioni effettuate, oltre 680 mila riguardanti la prima dose e quasi 320 mila quelle di richiamo. A margine della seduta odierna del Consiglio regionale, l'assessore Saltamartini ha invece dichiarato che la percentuale degli studenti maturandi che hanno aderito alla campagna vaccinale anti-covid-19 è superiore al 60%. Sempre Saltamartini ha poi annunciato che potrebbe essere previsto per l'ultima settimana di settembre il terzo richiamo vaccinale anti-covid, ad esempio, per il personale sanitario che è stato il primo ad essere vaccinato a fine dicembre. Notizie quindi confortanti per quanto riguarda il tema delle vaccinazioni, ma sono confortanti anche i dati che arrivano dal Servizio Sanità della Regione Marche, che ha comunicato appunto che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2725 tamponi, 1229 nel percorso nuove diagnosi e 1496 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 33, con 9 casi in provincia di Pesaro Urbino. Due i decessi notificati nella serata di ieri, tra questi un 91enne residente a Cartoceto. In questo primo spazio del nostro telegiornale torniamo a parlare anche del parcheggio a Campo di Marte di Baia Flaminia, perché la decisione dell'amministrazione comunale di rendere gli stalli a pagamento nel weekend ha suscitato diverse reazioni tra le fila della politica locale. Parcheggi blu nel fine settimana, per evitare una sosta selvaggia e incentivare una riqualificazione della Baia che passa per l'utilizzo di mezzi pubblici e navette. La decisione dell'amministrazione di trasformare a pagamento nel weekend gli stalli di Campo di Marte non ha trovato però giudizio favorevole nelle forze politiche di opposizione. In particolare il gruppo consigliare della Lega ha sottolineato la sua contrarietà al provvedimento. Abbiamo contestato il fatto che l'amministrazione, come spesso accade, prende decisioni fondamentali per la città e queste decisioni non vengono condivise in commissioni. Questo provvedimento in particolare non ci va bene assolutamente perché in un anno così difficile di Covid dove le persone già hanno avuto un ammanco dei guadagni, la disoccupazione alle stelle, tutte le varie problematiche, ci sembra poco indelicato, se non poco rispettoso, mettere a pagamento un momento di tranquillità che la gente ha dopo mesi e mesi di lockdown. Quindi non siamo assolutamente d'accordo, abbiamo chiesto al limite uno spostamento a staltranno del provvedimento ma non penso che il comune ceda perché questa è una gallina dalle uova d'oro dove ci sono più di 100 e passa posti auto e quindi un euro all'ora chiaramente per il comune far cassa. Il nuovo parcheggio di Baia Flaminia è un provvedimento per cui io ho votato a favore perché pensavo che 85 posti auto in più per questo quartiere che abbiamo promosso negli ultimi anni e quindi è decollato anche dal punto di vista turistico, alberghiero e anche ristorantizio diciamo. Potesse essere un respiro ma se dobbiamo realizzare 85 posti auto là gratuiti e farne pagare 120 qua allora non ha molto senso questo provvedimento. In replica alle dichiarazioni dei consiglieri della Lega, il gruppo di maggioranza Forza Pesaro Un Gran Bel Po ha rimarcato i motivi alla base del progetto. Nei mesi passati quando abbiamo approvato il nuovo parcheggio di Via Belgrado, era un parcheggio approvato e realizzato apposta pensando a una riprogettazione della viabilità in senso sostenibile di tutta la Baia Flaminia e fra questo c'è anche la riorganizzazione del parcheggio di Campo di Marte che sappiamo benissimo che nella stagione estiva e soprattutto nei weekend è soggetto a una sosta selvaggia. Il parcheggio a pagamento combinato all'offerta della navetta dal porto a Campo di Marte è uno degli interventi che pensiamo per la riqualificazione di tutta la Baia e non è solo legato a questa zona del mare ma come sappiamo anche alla riqualificazione tutta della zona mare di Viale Trieste dove anche lì un nuovo parcheggio, quello di Villa Marina è stato combinato alla ZTL. Quindi vogliamo cercare di rendere la città più fruibile potenziando il servizio pubblico e cercando di potenziare altre forme di trasporto che sono la bicicletta e tutte quelle che stiamo valorizzando in questi anni. Tra le dichiarazioni e le proposte da parte dei consiglieri comunali della Lega lo slittamento di questa proposta, di questo progetto di un anno? Sì, anche questa è una cosa che non capiamo bene da parte della Lega, parlano del fatto del timore dell'utenza a prendere i mezzi pubblici, in realtà è la Lega stessa che da mesi spinge per tornare alla normalità, togliere il coprifuoco, non avere più limiti nei ristoranti, quindi non capiamo perché in realtà ci sia un problema in un servizio pubblico che ovviamente viene garantito in sicurezza. Quindi noi non vediamo perché non si debba iniziare da subito, anzi bisogna iniziare subito. Ed ora parliamo di guardia costiera perché è stato presentato questa mattina il nuovo battello in dotazione appunto della guardia costiera di Pesaro, si tratta di un mezzo navale destinato allo svolgimento di operazioni di polizia marittima e ambientale marina, ma anche a tutela della sicurezza di bagnanti e di portisti, integrato di un sistema che garantisce maggiore sicurezza negli interventi di ricerca e soccorso delle vite umane in mare. A presentare il nuovo mezzo navale alle autorità presenti alla cerimonia è stato il comandante della Capitaneria di Porto, guardia costiera di Pesaro, capitano di fregata Barbara Magro. E adesso è il momento di parlare del proloco del nostro territorio, sono tantissime nella provincia di Pesaro Urbino, realtà che sono state duramente colpite da questo periodo di pandemia che come avete visto ha bloccato completamente tutti gli eventi. Il presidente provinciale Damiano Bartocetti ha sottolineato da un lato gli importanti numeri di perdite ed eventi sospesi e dall'altro la necessità di ripartire, grazie a regole precise. I numeri degli eventi sospesi, delle perdite economiche e delle presenze a causa del Covid dipingono un bilancio di grave difficoltà per le proloco della provincia, dati che però non bloccano la volontà di ripartire, come spiega il presidente dell'Unione delle proloco di Pesaro Urbino Damiano Bartocetti, che ha sottolineato come misura essenziale per programmare il calendario delle nuove manifestazioni e iniziative la definizione di chiare linee guida di sicurezza. Abbiamo contattato proprio in questi giorni il nuovo prefetto, abbiamo chiesto un incontro assieme al signor questore di Pesaro Urbino che vogliamo ringraziare per la grande disponibilità e di rapporto interistituzionale che si è creato, che ci è sempre stato. Creeremo delle linee guida che saranno uguali per tutte le 68 proloco della nostra provincia in modo tale che possiamo ripartire in sicurezza con delle linee chiare, con delle regole chiare perché prima di tutto per noi vige il rispetto, però è importante ripartire perché siamo veramente in una difficoltà enorme e per noi presidenti comincia a diventare un po' complicato e difficile gestire il tutto. Sono partiti piccoli eventi tipo Monteporzio, tipo partirà adesso Monbaroccio la festa della lavanda, sono piccoli eventi che però daranno il segno della ripartenza. Poi soprattutto quello che ci teniamo a precisare è che senza le proloco, senza i volontari questi borghi non sarebbero così vivi, così accesi e in più soprattutto attirano turisti. Lo scorso anno abbiamo annullato di eventi importanti, 300 eventi durante il 2020 con una perdita per le proloco di circa 2 milioni di euro e parliamo di almeno 3 milioni di euro di mancati introiti per i fornitori, quindi questa la dice lunga, cioè per i fornitori intendo tutti quelli che gravitano dai prodotti tipici locali, dagli esercenti, i commercianti che grazie alle nostre feste riuscivano a vendere tantissimo materiale, quindi su questo è chiaro che ci vuole un aiuto per una ripartenza, bisogna dare una mano alle proloco. Il 26 faremo l'assemblea provinciale al santuario del Beato Sante, quindi un luogo simbolo per eccellenza del turismo e da lì inviteremo tutti i rappresentanti della nostra regione, anzi gli invitiamo a partecipare tutti i rappresentanti politici della nostra regione per iniziare un nuovo percorso di gestione di tutto il territorio regionale. E nel frattempo il volontariato e le proloco hanno ricevuto un importante riconoscimento proprio durante le cerimonie per il 2 giugno, per la festa della Repubblica? Sì, è stata una cosa un po' a sorpresa che anche in questo momento mi emoziona particolarmente perché essere nominato Cavaliere della Repubblica è stato un riconoscimento importante che Sua Eccellenza il Prefetto ha voluto consegnarmi personalmente e ancora con grande soddisfazione però questo sicuramente è merito di tutti i volontari, di tutti gli uomini e le donne delle proloco e anche chi nel percorso della mia vita come i frati del santuario del Beato Sante ma i frati francescani di tutte le marche che mi hanno insegnato a donare, a avere uno spirito di volontariato. Chiaramente questo onere di Cavaliere che è molto pesante cercherò di impegnarmi ancora di più che mi dia ancora più forza ma che dia forza a tutte le proloco per poterci riprendere al più presto perché ne abbiamo veramente bisogno. Spostamenti limitati concentrati in mete italiane ed europee nell'attesa che l'avvio della stagione aumenti un po' il desiderio di partire ma anche il numero di viaggiatori. Quindi parliamo di turismo e della ripresa delle attività anche per le agenzie di viaggio che dopo i primi movimenti registrati nel mese di maggio e anche inizio giugno sperano nella crescita di prenotazioni con l'arrivo della vera estate. Maggio è partito bene, stiamo lavorando principalmente però sull'Italia e sull'Europa per soggiorni mare e soggiorni culturali in Europa quindi lavoriamo su un 10% della potenzialità dei viaggi del mondo perché ancora sussistono i blocchi su tutto l'estero. La gente sta iniziando a comprendere che fare un viaggio in agenzia di viaggi non è più oneroso di farlo in internet e sta iniziando a capire che la sicurezza sul viaggio è la cosa fondamentale. Oggigiorno purtroppo e per fortuna ci sono varie procedure da fare per poter viaggiare soprattutto all'estero in Europa e bisogna farle bene altrimenti le compagnie aeree non imbarcano e quindi onde evitare poi di arrivare in aeroporto e di vedere sfumare la vacanza sicuramente la persona si affida a chi di competenza, si affida ad un pacchetto turistico che garantisce comunque una sicurezza sul viaggio. I pesaresi, i fanesi, i pesaresi, comunque la provincia ha voglia di viaggiare la voglia di viaggiare c'è sempre ed è ancora più forte adesso che siamo stati chiusi fermi a casa e sicuramente la voglia di esplorare di nuovo l'Italia, l'Europa c'è sicuramente. Veramente aspettiamo che chi di dovere ci apra anche delle mete che sono assolutamente senza alcun rischio penso alle Maldive, penso a Zanzibar, penso a Mauritius, a Seychelles, isole veramente covid free che non hanno nessun rischio per i viaggiatori e per il rientro e per altro ma che ancora purtroppo sono soggette a quarantena di ritorno. Parliamo anche dello stato di salute economico delle agenzie di viaggio, attualmente qual è la situazione? La situazione ancora non è per niente erosa, anzi il momento difficile verrà adesso perché chi è rimasto in piedi, chi è ancora attivo, adesso dovrà riaffrontare la ripartenza quindi dovrà rintegrare il personale, i dipendenti e stiamo aspettando perché anche noi ancora non abbiamo rintegrato i dipendenti perché voglio avere la certezza che le persone partano perché noi guadagniamo quando le persone partono quindi ancora, essendo i primi di giugno, le partenze sono state poche e abbiamo già avuto partenze sulla Grecia e sulla Spagna quindi siamo ottimisti però per altri almeno due mesi, fino a che non vediamo le grosse partenze di agosto la situazione non è così chiara e certa in più vogliamo veramente credere che da agosto in poi, massimo settembre si possa ripartire sul lungoraggio perché quello è il vero motore per un'agenzia viaggi il lungoraggio dove comunque possiamo sviluppare itinerari di viaggio più concreti C'è una nuova sedia rossa a Pesaro che ricorda le donne vittime di violenza e quella collocata lo scorso sabato nel teatro all'aperto di Novilara che ha ospitato l'appuntamento promosso dal quartiere 3 Colline e Castelli di Pesaro in collaborazione con Percorso Donna l'iniziativa si è svolta nell'ambito della campagna nazionale un posto occupato, ideato per tenere alta l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere Da domani mattina sarà possibile prenotarsi agli spettacoli della tappa pesarese del Cater Tour attraverso la piattaforma online dice.fm sarà infatti possibile riservare il proprio posto e partecipare agli spettacoli gratuiti del nuovo format del Caterraduno l'appuntamento estivo dei fan delle trasmissioni Caterpillar e Caterpillar AM di Rai Radio 2 è in programma a Pesaro dalle 6 del mattino di venerdì 11 giugno alla serata di sabato 12 giugno in Piazzale del Popolo e al Parco Arena Miralfiore Il Conservatorio Rossini di Pesaro prosegue la sua missione di portare la musica al pubblico con la rassegna I Concerti degli Studenti 13 appuntamenti musicali realizzati in collaborazione con il Comune di Pesaro e AMAT che vedranno i giovani musicisti del Rossini esibirsi dal 10 giugno al 3 luglio 2021 nella cornice della Chiesa dell'Annunziata e della Chiesa di San Giovanni Battista di Pesaro primi appuntamenti della rassegna giovedì 10 giugno con il recital pianistico di Alessio Loowental alla Chiesa dell'Annunziata alle ore 17 a seguire doppio appuntamento sabato 12 giugno sempre alla Chiesa dell'Annunziata con il duo violino e pianoforte formato da Caterina Bartoletti e Marco Taviani e il concerto pianistico di Davide Massacci i biglietti potranno essere acquistati un'ora prima dell'evento all'esterno della Chiesa dell'Annunziata ed ora ci spostiamo ad Apecchio perché Palazzo Ubaldini ospiterà dal 12 giugno la mostra Ubaldini Signori dell'Appennino l'esposizione sarà visitabile fino ad ottobre e sarà la prima mostra realizzata sulla famiglia nobiliare che ha contrassegnato il passato rinascimentale del territorio apecchiese Questo è un momento assolutamente atteso e anche molto emozionante perché Apecchio riesce con questo evento e direi anche con uno sforzo notevole ma anche con l'impegno e la capacità delle persone che hanno contribuito a realizzare questo evento a collocarsi a pieno titolo nel circuito delle mostre d'arte quindi in un settore che riesce ad esaltare al massimo il nostro Palazzo Ubaldini che trova finalmente una collocazione ed una destinazione definitiva quella che le compete Rappresenta la prima mostra d'arte antica che si terrà nel Comune di Apecchio ma è anche la prima mostra che si terrà sulla famiglia Ubaldini e inoltre avremo l'onore di ospitare opere inedite da collezioni private ma anche il primato di poter vedere esposti e raffrontati la lunetta del Palazzo Ducale di Urbino con i medaglioni di mercatello del Museo di San Francesco quindi questa mostra rappresenta un po' un punto su quello che sono stati gli studi dedicati e le ricerche dedicate a questa tematica e vuole segnare anche un inizio per il futuro, per i nuovi studi Nel 12 giugno inaugureremo la mostra Ubaldini Signori degli Appennini come diceva il sindaco nelle sale espositive del Palazzo Ubaldini che sono state allestite con delle bacheche, dei pannelli un allestimento tutto nuovo che lo renderà una sala espositiva a tutti gli effetti è la prima mostra d'arte sponsorizzata dalla Regione Marche con la collaborazione della soprintendenza che verrà ospitata a Palazzo Ubaldini in Apecchio oltre a tutto il lavoro che è stato fatto per l'allestimento per i prestiti delle opere il risultato di cui vado più orgogliosa è la creazione di un gruppo di lavoro molto variegato che ha collaborato in questi due anni con intensità e passione e chiudiamo questa nostra edizione del telegiornale parlando di sport perché a pochi giorni di distanza dalla storica promozione Serie A1 dopo la vittoria della finale playoff contro Pinerolo il presidente della Megabox Vallefoglia Ivano Angeli ha parlato ai nostri microfoni raccontando le sue emozioni, le sue sensazioni al termine di questa lunga e bellissima stagione occhi però già puntati al futuro e alla competizione nel massimo campionato nazionale l'intervista è di André Sabatini le situazioni sono di una situazione insperata e quindi gioiosa non possiamo non essere contenti di tutto quello che è successo passando per i pre-off poi c'è stata tutta una serie di gare e competizioni che ci hanno permesso di vincere e di arrivare fino in fondo con soddisfazione ma anche con merito sicuramente la questione pubblico ci ha tolto le soddisfazioni più grandi perché comunque giocare col pubblico era tutta un'altra cosa purtroppo non si poteva e quindi abbiamo dovuto accontentarci di come si è potuta concludere la stagione per quanto riguarda il Covid ci ha tolto sicuramente un altro obiettivo che era di nostro interesse quello della Coppa Italia a un certo punto abbiamo dovuto rinunciare alla semifinale per motivi di Covid e abbiamo preso forse la decisione più giusta quella di rinunciare alla semifinale per non incombere in situazioni non dico drammatiche ma comunque pericolose quindi abbiamo fatto la scelta giusta ahimè e non abbiamo continuato la corsa verso la Coppa Italia una squadra che ha alle sue spalle una società importante un'azienda importante la sua, la Megabox anche in un anno quello del 2020 inizio 2021 così particolare ora la Serie 1 che l'anno scorso un po' era tra i più grandi sogni che è diventato realtà come si affronterà anche una nuova stagione così bella ma innanzitutto ci dobbiamo ancora organizzare per la 1 perché comunque è vero sì che era un sogno il nostro attagguardo da arrivarci ma teniamo conto anche che ci siamo arrivati il primo tentativo quindi ancora non avevamo proprio tutto programmato e tutto organizzato dovremo accelerare tutto il percorso per far sì che sin da quest'anno riusciamo a mettere in piano una strategia che ci permetta di consolidare la società e anche mettere in campo una squadra che possa stare in campo in A1 che non dico di eccellenza però una squadra che possa competere per salvarsi e questo è l'obiettivo primario per la stagione prossima non si può che ringraziare tutta la squadra partendo dalle giocatrici che hanno meritato questo successo ma anche allo staff agli allenatori a tutta la società che c'è dietro perché comunque in campo noi vediamo sì ragazze ma dietro ci sono sicuramente tante persone che ci lavorano dalla segreteria all'amministrazione ai ragazzi che che comunque tengono in funzione il campo ecco e poi da non sottovalutare gli sponsor che ci hanno permesso di affrontare questo questo primo campionato chiamiamolo primo campionato di 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 categoria di serie A e quindi dobbiamo ringraziare anche gli sponsor speriamo di averli con noi anche nella prossima stagione anche magari in forma diversa da quella della stagione passata e con magari anche qualcuno in più e allora complimenti davvero a Divano Angeli per aver creduto in questa squadra ed aver ottenuto questo importante successo soprattutto anche per il nostro territorio è finita qui la nostra edizione del telegiornale prima però come di consueto vado a raccontarvi quella che sarà la programmazione della prima serata di Rossini TV alle 21.15 vi racconteremo quante iniziative svolge costantemente la WISP sport per tutti il comitato di Pesaro e Urbino e poi a seguire continuiamo a parlare di sport di football americano con gli Angels in questo programma targato Rossini TV che sta portando avanti appunto informazioni su questo nuovo campionato e vi ricordiamo anche di scaricare gratuitamente l'applicazione la app di Rossini TV vicino a te sempre di più perché potete scaricarlo e avere sempre a portata di mano sul vostro cellulare la nostra programmazione la rassegna stampa il telegiornale i nostri programmi potete inviarci tramite la app le segnalazioni inviandoci foto video insomma veramente un sistema molto semplice molto pratico da utilizzare quindi ricordatevi insomma di scaricare anche voi l'applicazione di Rossini TV e adesso come di consueto invece vi lascio in compagnia del meteo per vedere come sarà il tempo nei prossimi giorni noi ci ritroviamo domani mattina alle 7.20 puntuali con la nostra rassegna stampa buona serata grazie